Antonio Salomone racconta il grande Torino, la tragedia di Superga e la sua influenza sulle generazioni future. All'estate del 1939 è associata la nascita del grande Torino, quando l'industriale Ferruccio Novo assunse la presidenza della squadra succedendo all'ingegnere Giovanni Battista Cuniberti. Per Novo si trattò di un ritorno al passato, giocava infatti nelle giovanili del Toro nel 1913, senza però mai riuscire a raggiungere la prima squadra. Le prime mosse in granata furono quelle di riorganizzare la società ispirandosi alla politica sportivo imprenditoriale istituita da Edoard Agnella alla Juventus, rendendo la gestione più simile ai modelli delle squadre inglesi, allora all'avanguardia. Si circondò di collaboratori competenti, come gli ex giocatori Antonio Ianni, Mario Sperone e Giacinte Elena. Rinalda Agnisetta, allora direttore di un'azienda di trasporti, gli venne affidato il ruolo di amministratore delegato. Roberto Copernico fu chiamato al ruolo di consigliere. Il primo acquisto di spessore effettuato da Novo fu il 18enne Franco Ossola, prelevato per 55.000 lire dal Varese, dietro consiglio di anni. L'attaccante fece il suo esordio il 4 febbraio 1940, in Novara-Torino 0-1. Mazzola e Loic vennero acquistati da Novo per 1.200.000 lire nel 1943, i primi e grandi acquisti di spessore del Grande Torino. Il primo era un regista uomo gol, il secondo un ala veloce con grande corsa. Verrà soprannominato dai tefosi elefante, per il suo pesante passo. Si aggiunse a loro il mediano Giuseppe Grezar, prelevato dalla Triestina per 250.000 lire. Tutti e tre facevano già parte della nazionale di calcio italiana guidata da Vittorio Pozzo. Così nasceva l'undici destinato a essere ricordato come il Grande Torino, capace di vincere 5 campionati italiani consecutivi e di fare paura a tutto il mondo. Il 3 maggio 1949, allo Stadio Nazionale di Lisbona, i Granata entrano in campo in quella che sarà la loro ultima partita. L'aereo parte regolarmente da Malpensa e atterrà a Lisbona, perché il Torino giocherà a quella partita, ma in realtà da quella partita non tornerà mai più. A rientro da Lisbona, il 4 maggio 1949, il trimotore Fiat G212 delle avioline italiane trovò una fitta nebbia che avvolgeva Torino e le colline circostanti. Alle ore 17.05, fuori rotta per l'assenza di visibilità, l'aereoplano si schiantò contro i muraglioni di sostegno del giardino posto sul retro della Basilica di Superga. L'imbatto causò la morte istantanea di tutte le 31 persone di bordo, fra calciatori, staff tecnico, giornalisti ed equipaggio. Per la fama della squadra, la tragedia ebbe una grande risonanza sulla stampa mondiale, oltre che in Italia. Il giorno dei funerali, quasi un milione di persone scesero in piazza a Torino per dare l'ultimo saluto alla squadra. Il Toro schierò, per finire il campionato, la formazione giovanile e vinse tutte e quattro le partite rimanenti, contro i pari età mandati in campo dagli avversari in segno di rispetto. Il Torino venne proclamato vincitore del campionato dal presidente della Federcalcio, Ottorino Barassi. Ancora oggi, il 4 maggio, tutte le squadre del mondo commemorano il Grande Torino, che rimarrà per sempre nella memoria di tutti quanti gli amanti di questo sport. La storia del Grande Torino mi è stata trasmessa da mio nonno, che mi ha infuso questa passione soprattutto per il calcio e poi mi ha raccontato delle geste di questi grandissimi giocatori che purtroppo sono stati fermati dal destino e che avrebbero potuto scrivere pagine indelebili della storia del calcio italiano e non solo. E' in casi come questi che poi la rivalità non conta. Infatti vediamo come in ogni occasione anche gran parte delle tifoserie avversarie omaggino questa grandissima squadra. E' molto toccante la cerimonia che si tiene ogni anno a Superga, in cui il capitano del Torino legge i nomi delle vittime e va a porre un mazzo di fiori sotto il monumento dedicato ai caduti. E' in questi casi che le rivalità scompaiono. Sarebbe stato bello vedere come sarebbero andate le cose senza questa tragedia, come sarebbe evoluto il calcio italiano che magari non avrebbe preso la piega che poi ha preso con il passare degli anni. E' una squadra che ha saputo trasmettere anche a chi non l'ha vissuta dei valori di lealtà e di sportività che magari nel calcio attuale patichiamo a trovare. Anni fa mi è capitato tra i tanti viaggi che ho fatto a Torino di andare in visita alla Basilica di Superga. Ricordo perfettamente alle spalle della Basilica c'è una lapide che è la lapide del Grande Torino dove ci sono elencati tutti i nomi sia dei calciatori che dei dirigenti. Durante la mia visita ho visto che comunque quotidianamente è un via vai di tifosi e anche turisti che si recano in quel posto o per curiosità o anche per commemorare la memoria del Grande Torino. Perché se la sorte ti ha dato in dote di essere innamorato di una squadra come il Torino, beh, allora avrai la ragionevole certezza che quel tuo amore non sarà mai angustiato dalla monotonia, ma da qualsiasi altra possibile condizione dell'anima inevitabilmente sì.